Buona serata a tutti dall'ippodromo del Savio, iniziamo la serata con una corsa per cavalli anziani di categoria G, premio MSC Virtuosa JK Viaggi, sono in 9 dopo il ritiro del numero 3, 1, Avi Cacciacch SM, Maurizio Cheli, 2, Bert SM, Andrevi Italiano, 4, Zelligrab, Giuseppe Salamone, 5, Damon Bar, Davide D'Antoni, 6, Tenor De Lung, Carmine Piscuoglio, in seconda fila, 7, Alexandra Mail, Marco Basile, 8, Blackfire Horse, Manuel Pistone, 9, Zenox B, Nicoletta Ravaioli, 10, Bonetto Cass, Gennaro Amitrano. Stacco della macchina, l'errore di Berta SM, è veloce Tenor De Lung che però ha lo scarrierante Berta SM, alla fine Carmine Piscuoglio riesce a scendere la corda davanti a Avi Cacciacch SM. Poi vediamo Alexandra Mail in terza posizione davanti a Bonetto Cass, intanto 200 metri in 14 con Tenor De Lung che ora modera il ritmo davanti a Avi Cacciacch SM mentre dalle retrovie Blackfire Horse si lancia in avanti, trova però l'anticipo da parte di Bonetto Cass, 400 intanto che va in via in 31, deve ora riallungare Tenor De Lung perché avanza dall'esterno, desiste poi Manuel Pistone e si accontenta di mettersi nella scia dell'allievo di Gennaro Amitrano. Intanto arriviamo ai 600 in 46 e 4, siamo al passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Tenor De Lung sempre affiancato dal numero 10 di Bonetto Cass, poi l'altra pariglia Avi Cacciacch SM e Blackfire Horse, compagni di allenamento. Terza posizione per Alexandra Mail mentre la terza pariglia l'è andata a prendere Davide D'Antoni con Damon Bar, poi prende la scia del largo anche Xenox B. Arriviamo al chilometro in 1.17 appena abbondante, situazione ormai cristallizzata con quattro pariglie, con Tenor De Lung ancora a spalle indietro. Vediamo dalle retrovie, provarci Damon Bar, intanto retta di line 14.6, Tenor De Lung in controllo su Bonetto Cass, poi sempre Avi Cacciacch SM lungo la corda mentre fanno un po' fatica i cavalli all'esterno perché ora Tenor De Lung allungato, la minaccia viene da Bonetto Cass, ultima curva passata in 15.2, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Tenor De Lung attaccato da Bonetto Cass, ultimi metri ci prova Tenor De Lung, ci prova Bonetto Cass ma alla fine Tenor De Lung che viene a vincere su Bonetto Cass al terzo posto Avi Cacciac SM, 1.15.7 la media chilometro per Tenor De Lung, il figlio di Iglesias Carmine Pescuoglio, i training di Sabrina Breccia, il lavoro dietro le quinte di Susanne Irene West per Tenor De Lung che aveva già corso bene al rientro e oggi ha vinto in percorso di testa. Grazie a tutti Grazie a tutti